A Sant'Orso ora per parlare di energia sostenibile nell'ambito della campagna settimanale della TGR sul rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Da due anni infatti nel comune Vicentino è operativo uno sportello per l'energia gestito da volontari, aiuta i cittadini a scegliere le tecnologie più appropriate e a incidere sul risparmio economico. C'è anche il gas, il gruppo d'acquisto solare. Vediamo. In quanto tempo pensa di rientrare un po' con questa spesa? Ho fatto un soldaggio anche di chi utilizza questi pannelli, poi considerando la situazione, la posizione dei pannelli, considerando il cambio di utilizzo degli elettrodomestici più spinto verso la giornata, il calcolo è sui 5-6 anni. È una storia che si ripete, quella di Roberto Costa, uno dei tanti cittadini di Sant'Orso che ha optato per l'energia sostenibile e il fotovoltaico. Nel comune dell'Alto Vicentino due anni fa è stato istituito lo sportello Energia che, gestito da volontari, aiuta i cittadini nella scelta dell'energia sostenibile. Lo sportello quanto ha aiutato? Ha aiutato dal punto di vista tecnico perché abbiamo messo su un prodotto di qualità. Normalmente i cittadini vogliono sapere quali sono le tecnologie. Noi ne proponevamo quattro con il gruppo d'acquisto e anche quest'anno il nuovo gruppo d'acquisto ha proposto quattro tecnologie. Green Community, quella del comune Vicentino, una comunità verde, premiata addirittura dall'Unione Europea per l'impegno a favore dell'ambiente. I risultati si vedono, tanto che al progetto che univa all'inizio dieci comuni, ora se ne aggiungono altri. Abbiamo quattro sportelli fisicamente, ogni giovedì a rotazione ci si sposta e i cittadini possono bussare alla porta, ricevere queste consulenze e soprattutto costruirsi anche una sensibilità sempre più competente in materia. Che guarda ad esempio a un capitolo nuovo adesso, quello della mobilità sostenibile, quindi oltre al capitolo del risparmio energetico oggi stiamo già cominciando a ragionare su un nuovo fronte.